È una carta tematica dei sapori e dei prodotti della provincia di Cuneo, anzi in particolare delle valli. Sono le dieci valli che convergono sul capoluogo, su Cuneo e poi la pianura, perché anche la pianura ha un'importanza eccezionale per ciò che riguarda i prodotti agricoli. A chi si indirizza? Si indirizza intanto al turista che verrà nelle nostre valli per portare a casa un ricordo e per portare soprattutto uno stimolo a comprare dei nostri prodotti e magari a riprovarli a casa sotto forma di piatto e di ricetta. Si indirizza anche invece ai residenti delle nostre zone per invogliarli a comprare nelle nostre valli. C'è uno slogan, compra in valle e la tua valle vivrà. A noi sembra molto importante che queste botteghe di valle, soprattutto le osterie, i formi che hanno chiuso e derano un posto di aggregazione, possano riprendere a vivere e a vendere. Ma non soltanto vendere un prodotto, qualsiasi prodotto chissà dove, ma prodotto invece nelle nostre valli. Quindi è un prodotto di qualità, di tracciabilità e un prodotto soprattutto sano.